ciao a tutti buon venerdì 16 aprile sono le 14 e 31 io sono stefano benvenuti e questa è la live incartrati questa è la rubrica incartrati se mi stai ascoltando soltanto tramite il podcast questa rubrica questo appuntamento è registrato e ed è disponibile anche in visualizzazione sempre tramite la pagina facebook carte italia o il canale youtube di stefano benvenuti dove puoi vedere sia le vecchie live registrate ma puoi vedere anche le pillole di ogni singola domanda separate tra di loro per comodità nel canale di youtube ciao claudia bentrovata ciao a tutti aspettiamo qualche secondo che arrivino gli altri nel frattempo immagino che sia tutto chiaro se ci sono problemi di visualizzazione fatemelo sapere io sono online tolgo un po di cose di mezzo anzi direi iniziamo direttamente con la sigla bene ok per cui la sigla di incartrati c'è è disponibile anche questa settimana ho ricevuto un bel po di domande alcune molto più complesse del solito altre più frequenti ma se vengono riproposte e bene rispondere perché come spesso capita io faccio una promessa c'è la promessa è che all'interno di del gruppo di carta italia ogni domanda riceve risposta anche se già viene esiste una risposta al riguardo ma per ogni domanda ci sarà sempre risposta benissimo allora io direi a questo punto visto che la presentazione è già creata e la sigla l'abbiamo lanciata direi di partire con la condivisione schermo andiamo direttamente qua benissimo ora se hai visto l'immagine di questa settimana l'immagine di questa settimana ancora una cosa che devo togliere pardon c'è il eccolo c'è l'immagine che voglio togliere che è questo qua in modo tale che non si sovrapponga ritorniamo in condivisione allora come come dico ogni volta ma evidentemente conviene sempre ripeterlo io sono Stefano Benvenuti sono il creatore del gruppo di carta italia della pagina di carta italia sono un affiliato carta nonché carta expert mi trovo in elenco di tutti quei consulenti che sono disponibili sono carta expert per l'italia qualsiasi domanda che tu hai riguardo alla tua strategia digitale rispetto all'automazione marketing rispetto all'utilizzo di carta falla tranquillamente ricevere risposta anche ora mentre sto parlando se hai domande che vuoi pormi fallo pure qui nello spazio dei commenti io termino l'argomento di cui sto parlando e rispondo alla tua domanda oggi questa live parla di quando ci si sente in bianco e nero quando è che ci sentiamo in bianco e nero? ci sentiamo in bianco e nero nelle situazioni in cui probabilmente vorremmo qualcosa di più ma siamo un po' sbiaditi non abbiamo la capacità di comprendere come tornare a colori bene questo può capitare quando siamo incartrati e per ritornare a colori nulla è meglio di un supporto nulla è meglio di confrontarsi con qualcuno che magari ha già vissuto quel problema e può aiutarci per cui la live incartrati serve proprio per tornare a colori io mi chiamo Stefano Benvenuti e se ancora non l'hai fatto devi andare sul sito stefanobenvenuti.com e scoprire Cartra in italiano sì perché c'è un corso gratuito che trovi sul sito stefanobenvenuti.com a cui puoi accedere facilmente cliccando su spiego Cartra in italiano e all'interno del sito e all'interno del corso puoi comprendere tutti quelli che sono le sfaccettature, i dettagli, gli aspetti di questo programma favoloso che si chiama Cartra spiegati da me direttamente in italiano un buon motivo per andare a fare un salto su stefanobenvenuti.com è quello di prendere un regalo sì perché all'interno del sito c'è un regalo che puoi scaricare il regalo è un funnel completo un funnel a chiappa contatti cioè un funnel che ti serve per creare una pagina con un form dove le persone lasciano le informazioni da queste informazioni partono una sequenza di mail che le portano a una pagina di ringraziamento questa pagina di ringraziamento contiene un file da scaricare il tuo chiaramente file da scaricare questo file da scaricare una volta che viene scaricato invita le persone a fissare un appuntamento cioè acchiappa i contatti prima gli prendi la mail gli dai un lead magnet e poi cerchi di fissare un appuntamento con loro per conoscere, per entrare in relazione per vendere i tuoi servizi, le tue consulenze funnel a chiappa contatti totalmente gratuito lo trovi in omaggio sul sito stepanobbenvenuti.com clicca su scarica il funnel gratis e in automatico lo riceverai riceverai il codice che inserendolo dentro il tuo account Cartra ti spiega come funziona se non hai un account Cartra sicuramente ti conviene provare Cartra per un dollaro e 14 giorni io sono un affiliato Cartra e essendo affiliato di Cartra guadagno nel momento in cui porto nuovi clienti a Cartra se tu lo farai all'interno del mio link cosa succede? succede che avrai il mio supporto ma inoltre avrai una campagna che è quella di preventivi automatici che è quella che io utilizzo io quando vendo i programmi fedeltà quando vendo consulenze è una campagna che ti supporta ti aiuta a vendere i tuoi servizi in modo automatico legando un conto alla rovescia alle offerte che tu fai nel momento in cui l'offerta viene accettata bene quando non viene accettata in automatico rindirizza le persone su un'offerta differente che può essere di downsell può essere di richieste informazioni è una campagna completa che ti omaggio se provi Cartra con il mio link c'è la campagna a chiappa clienti quella che ti viene dato in omaggio ma secondo me di maggior valore c'è una consulenza una consulenza omaggio gratuita 30 minuti di consulenza strategica di orientamento cioè io non ho la pacchetta magica però un po' di esperienza ce l'ho nel settore del marketing digitale nel settore delle automazioni in generale e in 30 minuti ti oriento cioè ti aiuto a capire quali sono gli asset di cui hai bisogno per raggiungere il tuo obiettivo alla fine della consulenza tu stabilirai ciò di cui hai bisogno per raggiungere il tuo obiettivo lo potrai raggiungere da solo lo potremo raggiungere insieme dipende da te sta di fatto che in questa call hai una risposta cioè hai uno scenario una visione magari ti posso dire che succede tutto in due settimane che ci vuole un anno che Cartra non fa per te che Cartra è perfetto ma in ogni caso il mio obiettivo non è quello di venderti Cartra perché chi fa questa call già sta provando Cartra ma è quello di aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo la call di orientamento ripeto se hai o se avete domande lasciate ora qui nello spazio dei commenti io proseguo nella risposta alle domande vado nella pagina del eccoci qua vado nella pagina della live perché tutte le domande a cui risponderò sono domande che ho ricevuto sul gruppo di Cartra Italia alcune come messaggio altre in pubblico la cosa importante è che ogni domanda su Cartra riceverà risposta fai anche tu le tue domande iniziamo allora la prima domanda come posso creare una nuova categoria in My Videos cioè tu inserisci i tuoi video all'interno di Cartra e vuoi organizzarli in modo strutturato come creare una categoria in My Videos le categorie le crei nel momento in cui aggiungi un video nel momento in cui aggiungi i video all'interno di Cartra ti viene richiesto di organizzare questi video in categorie devi cercare nel pop up che visualizzi in fase di upload la scritta che di solito si trova proprio sotto dove c'è lo spazio di decidere la tua categoria proprio che si chiama manage my categories cliccando su manage my categories puoi o editare o modificare quelle già esistenti o aggiungerne di nuove aggiungendo nuove categorie avrai automaticamente creato la tua categoria dove sto dicendo vediamolo insieme allora io vado in Cartra vado in Videos se vado a creare un nuovo video mi si apre un pop up clicco per caricare un video e vedi qua in basso a destra si è scritto manage my categories se lo clicco si apre una finestra dove posso o aggiungere una nuova categoria o modificare la categoria esistente ok in questo modo io posso organizzare le mie categorie spero di aver risposto a questa domanda domanda successiva posso far vedere contenuti diversi su una pagina in base a cosa si usa mobile o computer o tablet aggiungo io bellissima domanda allora si puoi farlo prima di tutto si la cosa è fattibile puoi mostrare dei contenuti diversi in relazione a il device diciamolo tecnicamente che il tuo pubblico sta utilizzando devi agire sulle sezioni che cosa significa mi spiego meglio ogni sezione ha la possibilità di essere vista o nascosta a diversi tipi di device cioè tu puoi decidere di mostrare o nascondere una pagina o una sezione perdono una sezione a chi accede da computer oppure a chi accede da tablet oppure a chi accede da telefono questo comporta che tu puoi ad esempio creare una sezione visibile solo per i telefoni e una sezione visibile solo su computer e tablet o viceversa questo ti permette appunto di semplificare la visione su mobile metti che in una pagina tu hai tanti elementi ma non vuoi farli tutti apparire quando mostri dal telefono perché a te interessa soltanto che ci sia un'immagine il testo e il bottone ad esempio mentre sul desktop magari c'è qualche animazione qualcosa di particolare che invece verrebbe appesantita a disturbare nella visualizzazione da mobile oppure vuoi arricchire proprio per questo vuoi arricchire la visualizzazione che stai mostrando di una sezione di una parte di una pagina solo a quelli che guardano questa parte questa pagina da computer o semplicemente vuoi spostare gli elementi per organizzarli diversamente cioè magari tu puoi trovarti nella condizione in cui una pagina hai delle sezioni alternate con immagini e il testo alternati ma come sappiamo alcune parti sono visibili in un modo altre in un altro o altre ancora nello specifico andiamo un po' nel dettaglio e guardiamo pagine pagine eccolo qua ad esempio se io cerco tra le pagine io ho una pagina test vediamo un po' dove faccio gli esperimenti eccolo qua la mia pagina test edit entro dentro e quando sono dentro posso andare a modificare la posizione cioè se ad esempio io ho questo che è l'immagine del libro che ho scritto alta fedeltà che si occupa di fidelizzazione se io ho questa visualizzazione in questa sezione nel momento in cui la mostro da mobile vedrai che ho prima immagine testo testo immagine questo perché perché nella logica della visualizzazione da desktop e ho sempre la visualizzazione da sinistra a destra e poi di nuovo da sinistra a destra per cui verrà visualizzato questo questo elemento e questo elemento e poi questo elemento e questo elemento appunto ci sarà questo elemento questo elemento immagine testo testo immagine ma se io volessi ad esempio anzi facciamo una cosa elimino questo elimino questa parte elimino questa parte bene se io vado a duplicare questa sezione la vado a duplicare l'ho creata sotto e vado a modificare la presenza delle immagini ok quindi ho immagine testo immagine testo in una sezione e nell'altra sezione ho immagine testo testo immagine io posso dire app cart andando su la rodellina e cliccando su edit posso dire che questa parte hide questa parte della sezione la nascondi ai visitatori da mobile ok e invece questa seconda parte la nascondi vado su la rodellina e vado su edit ai visitatori da computer e da tablet perché salvo se io vado su la visualizzazione infatti adesso ho nascosto la visualizzazione da da mobile se io vado su mobile vedo che ho immagine testo immagine testo ok se vado da tablet anzi da desktop avrò immagine testo immagine testo per andare a modificare poi le sezioni dovrò andare appunto nello spazio specifico però in questo modo io posso andare a personalizzare la visualizzazione in base al device che sto scegliendo ok spero di aver risposto alla domanda la domanda successiva riguarda sempre lo stesso argomento per cui le ho avvicinate sto creando una landing page e ho una sezione divisa in due colonne e da desktop l'ordine estetico mi piace il problema è che da mobile gli elementi delle colonne hanno un ordine differente che è quello che ho mostrato ora quello che ho spiegato ora hanno un ordine differente vista la formatazione sarebbe possibile mantenere le colonne e il conseguente aspetto grafico nella versione desktop e modificare solo lato mobile dando priorità di visualizzazione di elementi piuttosto che ad altri questa domanda sembra fatta apposta però giuro ma è arrivata proprio qua se vai nel gruppo di carta italia la leggi sicuramente è possibile allora parlando più da un punto di vista estetico è possibile e il modo che da fare ripeto è quello il modo per agire è duplicare la sezione che vuoi differenziare e rendi invisibile la sezione per mobile ai pc e ai tablet e fai l'opposto per le sezioni da pc andando nel dettaglio a modificare le sezioni dove ti servono ok quindi in questo caso per differenziare la visualizzazione da pc e mobile duplica la sezione e edita modifica la visualizzazione solo per mobile o solo per computer o solo per tablet o tablet e computer tablet e telefoni quello che preferisci però in questo modo puoi andare a presentare una sezione con dei contenuti uguali però visibili in modo differente in funzione del fatto che tu digestisci in questo modo chi sta vedendo cosa e con quale device ok spero che sia utile a tutti domanda successiva come testo un acquisto di un prodotto ecco questa è una domanda importantissima perché molto spesso noi arriviamo alla fine di un processo e non sappiamo però come verificarlo come testare un prodotto per testare un prodotto il modo migliore è quello di processare una vendita però se ad esempio il prodotto è un prodotto tuo e stai facendo la vendita con paypal il problema è che paypal non ti permette di pagare te stesso se lo stai facendo con la carta di credito poi dopo tu fai un acquisto dovresti riportare il denaro dentro cioè può essere un po' fastidioso non è così intuitivo come fare oppure devi ragionare come se fosse un cliente e appunto per questo Cartra offre l'opzione test cioè offre la possibilità di testare i propri tuoi prodotti in modo che i dati che tu immetti all'interno del pagamento non sono realmente processati e non viene pagato nulla perdonami l'allergia e periodo i dati anche se la temperatura non è primaverile siamo in primavera scusami tanto in modo che i dati non sono processati che bello scusatemi ma le funzioni di Cartra lavorano come se le fossero i tag le liste le sequenze le automazioni partono realmente in questo modo tu testi un prodotto vediamolo nel dettaglio allora io apro una pagina scusami tanto non era previsto questo raffreddo vado su un prodotto quando vai su un prodotto esistente vedi qui c'è live mode test mode e test mode in questo caso sono in test mode se io vado sul check out che è la pagina e qui c'è il link diretto non c'è la pagina da inserire però se vado su un prodotto vero e proprio ad esempio canon ecco vediamo vado su test mode vediamo niente dipende come si importa ok come si imposta se deve essere caricato su una pagina comunque quando il momento in cui il prodotto si trova in test mode che tu hai messo su una pagina quando vai a fare l'acquisto non viene processato il pagamento non essendo processato il pagamento non ti trovi nella condizione di pagare nulla però tutte quelle che sono le conseguenze quindi i tag applicati le sequenze le automazioni partono in automatico ok sapevi tutte queste cose che sto spiegando pensi che ti sono utili fammelo sapere interagiamo fammi capire che quello che ti ti sto dicendo ti è utile perché per me è importante anche sapere che i miei sforzi sono utili alla tua attività ok e se hai domande come al solito ripeto inserisci qui sotto il tuo commento se qualcosa che ho spiegato magari sono andato troppo veloce o pensi che debba ricevere un approfondimento fammelo sapere per me è un piacere ok domanda ulteriore voglio fare la prova di Kartra ma non ho capito dove si scarica questa domanda mi è arrivata per messaggio e all'inizio non ho capito perché dove è il problema che la persona che me l'ha scritto era convinto che per provare Kartra dovesse scaricarlo Kartra allora voglio rispondere a questa domanda anche un po' spiegando il funzionamento cioè per provare Kartra innanzitutto prima devi procedere al pagamento di un dollaro cioè paghi il tuo dollaro e inizi a provare Kartra devi ricevere le credenziali quindi ricevi le credenziali per entrare nel programma in automatico tempo 2-3 minuti al massimo e ricevi le credenziali per 14 giorni lo usi senza limiti inizi a creare inizi a creare sequenze inizi a creare pagine inizi a creare prodotti inizi a creare corsi sviluppi tutta la tua strategia per 14 giorni senza limitazioni poi in questi 14 giorni ricevi anche delle informazioni da parte di Kartra direttamente di come funziona il programma un corso che si chiama Kartra Nauz a cui puoi accedere gratuitamente per tutto il tempo che utilizzi Kartra direttamente c'è il link anche nel tuo account inoltre se vai su stefanobenvenuti.com ti ricordo che accedi al corso di Kartra in italiano chiaramente se inizi a provare Kartra con il link di affiliazione che io ti ho proposto sarà anche più comodo più semplice perché riceverai oltre alle campagne in omaggio riceverai anche la consulenza di cui ti ho parlato quella strategica ma soprattutto la prova non si scarica non è un programma che tu installi da qualche parte non si installa da nessuna parte su server o altro è tutto online non è un programma che cumpri e usi come potrebbe essere qualche altro programma gestionale o qualcosa del genere è un programma che usi online così come vai su facebook così come controlli la posta elettronica Kartra altrettanto è un programma cloud intanto che paghi lo puoi usare nel momento in cui non paghi più Kartra ti inibisce l'uso semplicemente ok è un dettaglio ma non è scontato visto che qualcuno chiedeva appunto dove scaricare la prova di Kartra domanda successiva come posso convincere i membri della mia membership a fare un upgrade ad un livello a pagamento bella domanda questa domanda è molto utile mi è piaciuta molto perché penso che sia utile soprattutto perché esistono più modi per farlo fare come offrire un upgrade in un corso ad esempio sappiamo che le membership all'interno di Kartra possono avere al massimo quattro livelli quindi tu puoi creare anche un livello gratuito e poi i successivi a pagamento oppure tre gratuiti e il successivo a pagamento possono essere gratuiti o pagamento appunto ma per invogliare un membro di un livello a fare un upgrade un salto a pagare qualcosa di più puoi fare più modi allora uno può usare le sequenze email mettiamo il caso che tu dici nel momento in cui la persona ha terminato la visualizzazione dei video che sono nel livello 1 gli dai l'opportunità di far partire una sequenza che gli offre l'opportunità di comprare il livello 2 o il livello 3 o il livello 4 ok quindi puoi usare le sequenze in base al trigger che le persone fanno all'attività che fanno all'interno la membership per offrirgli l'offerta il servizio superiore oppure puoi mostrare l'upgrade come prodotto nella sidebar cioè nella nella barra laterale puoi aggiungere il tuo il progresso del corso puoi mettere il tuo avatar o la tua immagine puoi mettere un banner puoi mettere anche il prodotto in modo tale che la persona lo sa che c'è un corso ulteriore che c'è un upgrade disponibile il modo secondo me più efficace di tutto è quello di usare la versione la funzione teaser pop up la versione teaser pop up ti permette di aggiungere un video oppure delle immagini o un testo all'interno del tuo corso per permettere a chi fa parte già di un livello che magari vede le voci successive del corso e dice ok ma come posso vedere anche questo cliccandoci si apre un pop up che ora poi dimostro ti dice ok allora se vuoi vedere anche questo puoi acquistare direttamente il livello successivo a questa pagina mandandoti con un bottone mandandoti su un corso ulteriore lo vogliamo vedere vediamolo insieme allora andiamo su la vediamo andiamo sulle membership ok io ho una membership test che è questa entro dentro entrando dentro posso personalizzare diversi aspetti quindi posso personalizzare il builder direttamente all'applicazione come ti dicevo ad esempio posso aggiungere il prodotto compro il libro vado qua product lo aggiungo e fa riferimento a un prodotto che io ho a listino posso decidere di mostrarlo in questo modo posso decidere di mostrarlo con un'immagine più grande posso decidere di mostrarlo in più modi ok con l'immagine interale mettiamo il caso che metto questo ok decido il prodotto un'ora di assistenza in carta ok la mia consulenza in questo caso le persone vedranno questo e cliccando il bottone cliccando questo banner si aprirà il pop up che permetterà l'acquisto direttamente del prodotto e questo prodotto poi potrà portare alla visualizzazione della parte successiva del corso per capirci ok scusami tanto del raffreddore anzi non del raffreddore della allergia vado avanti un'altra parte che posso visualizzare è questa dove io posso decidere access level ecco qua in access level membership scusami managing locket post cioè se io ho diversi livelli di visualizzazione del corso e avrò probabilmente dei post chiusi io posso qui decidere di mostrare i post chiusi e posso mostrarli posso decidere di non mostrare nulla di mostrare la voce del menu ma non cliccabile o mostrare la voce del menu cliccabile e cosa succede quando diventa cliccabile posso ad esempio dire ok seleziona un video seleziona un video con un bottone ok l'ho selezionato pardon vado avanti e lui mi dice che video vuoi mettere allora io qui decido un video che ho a disposizione tra i miei cartra non categori dovrebbe esserci ok qui video test lo aggiungo e video test e qui metto il link a un bottone ad esempio qui dico posso mettere una pagina direttamente oppure un link direttamente al prodotto in questo caso prendo la pagina dove io presento il servizio quindi www.stefanobenvenuti.com e le persone cliccando possono andare sulla pagina del sito che gli fa vedere magari un piccolo video esplicativo dove dico allora questo contenuto al momento è bloccato perché è accessibile solo a chi acquista a livello successivo del corso che puoi farlo anche tu cliccando sotto un bottone dove c'è scritto botton text e acquistando il servizio cosa ottieni acquistando il servizio bla 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 e così inizi a presentare però questo secondo me è il modo più efficace e il modo più completo per proporre ai tuoi contatti alle persone che sono all'interno della tua lista di fare all'interno del tuo corso di fare upgrade che ne pensi se siete d'accordo fammelo sapere se già lo stai facendo fammelo sapere o se pensi di iniziare a farlo fammelo sapere ok domanda successiva è possibile creare un'automazione su un pulsante di download di un file in una pagina cartra per esempio if we push this button download this file then assign a tag bella domanda allora si è possibile è possibile e anche molto utile si può fare in più modi cartra considera che ha ideato quello che lui ha chiamato il BAM il BAM è un agronimo che sta per behavioral actionable marketing cioè il marketing che si aziona in base ai comportamenti in questo caso non è che se l'ha inventato lui però gli ha dato questo nome però l'idea il fatto di poter tracciare i comportamenti degli utenti e in funzione di questo tracciamento andare a reagire e attivare delle azioni di marketing è sicuramente molto rilevante molto importante e loro l'hanno fatto secondo me in un modo molto molto buono efficace di base non è evidente nel filter cioè non è che c'è un'opzione quando tu aggiungi il tasto per dire ok se clicca il tasto aggiungi il tag se clicca il tasto attiva la sequenza se clicchi questo fai quest'altro ma ci possiamo arrivare e comunque l'opzione è dentro cartra non devi utilizzare nient'altro che cartra la funzione come spesso capita è alla fine cioè tu devi partire dalla fine sapendo qual è la destinazione e partendo dalla destinazione utilizzi questa informazione da mettere nel bottone mi spiego meglio la funzione in questo modo il mio consiglio è prendi il link finale che potrebbe essere la pagina dove c'è il download oppure il link del file del download che vuoi far vedere tramite il download ok il link da scaricare o la pagina da far visualizzare quando prendi questa pagina devi creare quello che si chiama un tracking link lo trovi sotto la sezione prodotti usando il link finale come obiettivo poi te lo mostro ok a questo punto nella creazione del tracking link devi definire che chi lo clicca riceverà il tag quindi tu dici ho il link del file da scaricare creo un tracking link seleziono il tag quando le persone scaricano questo file aggiungigli il tag a questo punto memorizza il tracking link creato tu prendi e salvi questo tracking link e questo tracking link quando crei il bottone scarica qui il tuo file vai nella pagina di download e scarica qui il tuo file quando metti nel bottone il bottone devi usare l'opzione link to another page e l'another page che puoi mettere è il link che hai creato ok per cui in questo modo vai a personalizzare l'attività di tagging cioè di attribuzione del tag in base all'azione te lo faccio vedere perché io te l'ho descritto a voce ma forse è più facile mostrarlo che dirlo quindi se io vado su aspetta che da qua ok esco da qua ti può essere utile appunto taggare le persone che fanno un'azione quando vai su tracking link ecco qua più tracking aggiungi il tracking gli diamo test live incartrati ok la gli diamo una categoria come tutto mettiamo in questo caso a nessuna categoria perché poi dopo lo potrò eliminare può essere un un tracking link ad una pagina di prodotto un tracking link che tu lo vuoi fare per una pagina specifica quindi se ad esempio tu vuoi portare le persone ad una pagina specifica o un link esterno in questo caso io mettiamo che metto come se fosse un stefano benvenuti punto com ok questo link viene applicato a tutti tutti quelli che cliccano potranno andare in questa pagina solo quelli con un link tag o quelli senza un determinato tag perché poi posso anche in questo caso filtrare le azioni che vengono fatte ok quindi io potrei dire ad esempio creo due tracking link per chi ha un tag li mando da una parte quelli senza il tag li mando da un'altra ok se hai comprato un prodotto upsell se non l'hai comprato downsell facciamo un esempio però chiaramente questo è un po' strategie un po' più evolute mettiamo che lo mando tutti traccia il click volendo posso anche dargli un goal cioè dire che quando succede questo ad esempio hanno fatto opt-in hanno fatto un acquisto hanno visitato una pagina quello che sia traccia semplicemente il link aggiungi il tag aggiungi il tag io qui creo un tag stefano benvenuti test anzi in questo caso e test import ok aggiungo il tag non gli do valore se volessi volessi dargli anche un valore economico se sto spendendo e questo è il link per cui quando ho questo link questo link io lo vado a inserire nel bottone cioè vado a utilizzare questo link come link esterno del bottone perché le persone che cliccheranno quel bottone verranno attribuite con il tag e andranno poi alla pagina di stafano benvenuti ma potrebbero andare nella pagina di download e così via ok questa è una funzione molto 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 efficace che personalmente uso e che mi permette anche di tracciare in modo preciso e esatto quelli che sono le attività che fanno le persone all'interno dei miei panel spero che ti sia molto utile e che la utilizzerai al meglio domanda successiva cartra mi dice che ho raggiunto il limite e stavo guardando per l'upgrade cartra mi mostra il prezzo del silver ma devo pagare per intero o solo la differenza giusto eh soldi mica che cadono dal cielo per cui il prezzo dell'upgrade di carta di questo parleremo adesso cartra può essere pagato mensilmente o annualmente lo sai probabilmente già lo utilizzi se non lo utilizzi vai su stefano benvenuti.com e chiedi la prova se superi il livello che avevi scelto inizialmente per cui hai pagato magari tutto l'anno mettiamo in questo caso cartra ti chiede di fare due cose o di pagare la differenza quindi fai l'upgrade ma fai solo la differenza che manca non tutto l'anno di nuovo o in alternativa devi semplicemente ridurre le risorse utilizzate ciao giulio cornaghi ben trovato o ridurre le risorse utilizzate dal tuo account perché riducendo le risorse non andrà non ci sarà più bisogno di fare upgrade ok spero di risposto anche a questa domanda domanda successiva qual è la differenza tra cartra e una lms un learning management system come per esempio teach vault in kifik e altri ok sono altri che poi nominerò e in particolare nelle piattaforme puoi allegare file scrom scorm in realtà forse ho scritto male mentre in realtà in cartra questa opzione è più specifica dell'lms questa opzione che è più specifica dell'lms ancora non è presente è corretto grazie mille bene allora forse non tutti sanno che la rubrica che c'era sul settimana enigmistica non so se ve la ricordate innanzitutto cosa è un lms lms è un acronimo che sta per learning management system cioè sistema di gestione di apprendimento è utilizzato da alcuni sistemi da alcuni programmi come team kifik teachable anche lo stesso kajabi in parte ma anche in parte lo stesso cartra e è una funzione in evoluzione visto che sono in evoluzione i sistemi di learning ne esistono diversi l'inchific teachable learn dash è quello che conoscevo anch'io sono creati per gestire l'erogazione di corsi con funzioni particolari come la gamification i quiz i deep content ora alcune di queste funzioni in cartra ci sono altre no sicuramente la gestione tramite file scorm non c'è in cartra cartra non ha ancora tutto però è anche vero che nella bike a catirello delle richieste in 470 persone e io sono il 470esimo chiedono di aggiungere questa funzione che è under consideration che cosa significa una bike a catirello allora cartra ha un un buon ascolto di quelle che sono le richieste dei propri utilizzatori esiste una bike a catirello che poi posterò anche qui nei commenti dove le persone possono fare richiesta di quelle che sono le richieste anzi guarda te la mostro subito perché se no perdiamo di vista l'importanza di questa ecco siamo in tre feature request cartra questa è pubblica non è perché io sono un cartra expert che ce l'ho in under consideration in 460 hanno chiesto di aggiungere le funzioni di learning management system a cartra per cui è qualcosa che stanno realmente valutando maggiore il numero delle persone che votano e maggiore è la velocità con cui loro passano da under consideration a in development ad esempio adesso sono in fase di sviluppo dei quiz e dei sondaggi ok per cui è qualcosa su cui stanno già lavorando non è da zero però cartra non è nato come lms non ha ancora tutto sta a dire che i file ad esempio scorm sono documenti che racchiudono i contenuti di un corso sono uno standard e sono un po' come i file zip la cosa particolare di questi file scorm è che contengono tutti i contenuti di un file appunto Claudia tu mi hai chiesto questo perché hanno all'interno un'architettura un'architettura completa di un file però non sono letti da cartra perché cartra quello che chiede è che venga utilizzato il proprio builder cioè non accetta un'importazione permette ad esempio l'importazione di banche dati ma non accetta l'importazione di corsi in modalità standard ti chiede di importarli di ricrearli all'interno del proprio builder la funzione principale che vedo in molti lms e che è quella che non è presente in cartra in modo più oggettivo sono i quiz o le surveys detto questo c'è però magari modo di poterlo fare permettendo che è stato anticipato che verranno a breve inseriti hanno detto già ci stiamo lavorando è la prossima cosa che faremo in alto la lista per cui magari potrebbe avvenire domani potrebbe avvenire una settimana o tra un mese però diciamo è la prima cosa su cui stanno lavorando è la prossima in lista per il momento esiste un'alternativa c'è un programma che si chiama online che si chiama interact che puoi trovare al sito tryinteract.com che è suggerito per questo si integra con cart per cui le persone tu puoi mettere ad esempio puoi creare una pagina con un quiz e fare questo quiz su interact tu ad esempio potresti fare un corso le persone che partecipano a questo corso devono poi rispondere a un sondaggio ecco il sondaggio lo fai con interact il corso lo fai con cart oppure puoi fare in modo che le persone rispondano in un altro modo magari inviando il questionario per email o rispondendo a un form ci sono diverse opzioni sta di fatto che secondo me io ho letto un pochino online quando mi è stata posta questa domanda prima di pranzo che molti creano sistemi con piattaforme esterne ad esempio learning dash learning dash è un sistema che si integra molto bene con cart ma hanno detto anche che learning dash è un plugin a pagamento che si aggiunge a un sito wordpress nel momento in cui viene inserito all'interno del sito di un sito wordpress si permette di gestire un corso interno il problema secondo me però che personalmente oggi cart offre probabilmente l'80% di tutto quello che può esserci all'interno di un corso di un lms diciamo di un sistema di gestione di corsi nel momento in cui lo devi creare e hai un'unica piattaforma è più semplice da gestire quando devi fare interagire più piattaforme può essere un po' un problema perché qualcosa poi può anche andare storto per cui il mio suggerimento in questo caso è di utilizzare al meglio cartra iniziare a utilizzare cartra poi quando aggiungeranno questa funzione tutto va bene magari se hai bisogno di aggiungere i quiz try interact può essere la soluzione che fa per te avere una piattaforma unica nel tempo ti semplifica molto la vita uno per la gestione dei costi ma due anche perché in questo caso tu hai i tuoi clienti i tuoi lead solo in un unico punto ok spero di aver risposto anche a questa domanda ora rispondo all'altro aspetto che mi è arrivato in privato un messaggio privato in cui mi chiedevano sto valutando anche di capire come avere il supporto necessario e vorrei capire come lavori allora ho pensato giustamente perché io spesso dico io lavoro nel supporto alle aziende questa parte la mettevo alla fine ma come lavoro io? allora innanzitutto io quando do supporto all'azienda inizio da quella che viene chiamata la customer giorni cioè iniziamo a vedere dalla fine come si arriva all'inizio cioè partendo da quello che è il tuo obiettivo la vendita di un corso la vendita di un prodotto la vendita di servizi in generale la presa di appuntamenti la gestione del tempo la delega verso i propri dipendenti la formazione da clienti quello che sia vediamo come arrivano lì quindi prima di tutto facciamo un'analisi della customer giorni questa analisi della customer giorni permette la creazione di una campagna di un funnel ok a livello proprio grafico utilizzando strumenti come Gero o come Funalytics lo disegniamo lo disegno io per te poi dopo lo condividiamo chiaramente e quando l'abbiamo disegnato andremo a individuare tutti i diversi asset servono tre pagine una di opt-in l'altra per conferma dei dati e l'altra per ringraziamento poi servono dei tag allora serve anche la lista allora servono le mail ecco andando a gestire tutti quelli che sono gli asset sarà più semplice poi andare a valutare il timing dell'esecuzione perché se abbiamo cento pagine sarà un tempo se abbiamo tre pagine sarà un altro e nel momento in cui abbiamo individuato il timing dell'esecuzione sviluppiamo i compiti quello che faccio io quello che fai tu quello che fa qualcun altro ma andiamo a stabilire quelle che sono proprio le attività nel concreto per quantificare i contenuti necessari che quelli dovranno essere poi sviluppati perché se devo fare dieci email significa che devo scrivere dieci contenuti se devo fare tre pagine devo scrivere tre contenuti ok perché a questo punto verranno definite le step e le regole cioè facciamo questa parte ma finché non mi dai contenuti non facciamo le parti successive quando abbiamo finito questo facciamo un altro cioè andremo a creare quello che a volte in architettura l'ingegneria vengono chiamate le SLA stato anzi SAL stato avanzamento lavori come chi ha fatto dei lavori in casa già conosce questo termine per cui quando abbiamo creato i step e le regole allora in quel punto iniziamo veramente iniziamo a mettere i lavori ma poi la seconda parte della domanda che mi è stata posta è ma qual è poi il risultato del tuo lavoro perché è chiaro che quello che bisogna capire è il risultato allora il risultato può essere uno schema grafico del funnel sicuramente e quello può essere utile una campagna completa perché può essere poi utilizzata ulteriormente perché può essere clonabile ma non solo perché l'importante è arrivare alla consapevolezza completa del funzionamento del funnel per avere una capacità di visorazione del risultato il reale risultato non è tecnico il reale risultato è una consapevolezza di avere tutto quanto sotto controllo cioè è un futuro migliore adesso non voglio allargarmi però nel momento in cui tu hai tutto quanto organizzato nel momento in cui hai tutto sviluppato sapere che tutto quanto lavora anche in autonomia vuol dire che hai recuperato risorse puoi andare a scalare il tuo processo e puoi raggiungere dei risultati che prima erano inimmaginabili inimmaginabili semplicemente questo ok inoltre ti ricordo che è online kfic che è lo strumento di collegamento per far comunicare cartra con fatture in cloud per automatizzare la creazione dei tuoi documenti puoi provarlo gratuitamente andando su kfic puoi direttamente provarlo è sempre online ogni settimana ogni giovedì mattina esce il podcast automater l'ultima puntata è quando conviene smettere la ventesima puntata siamo arrivati a 20 settimane di podcast 20 settimane in cui in modo molto costante cerco di dare valore cerco di trasmettere quello che possono essere degli strumenti quelle che possono essere delle idee su come organizzare come fare di più con meno la mia promessa è come fare di più con meno ok lo trovi su spotify etunes google podcast audible o quant'altro ok è gratis come tutto è quello la maggior parte di quello che faccio perché l'importante è dare il valore poi dopo se ho il bisogno sai che puoi contare su di me nel supporto così come puoi andare su stefanobenvenuti.com e entrare nel corso di Kartra per avere accesso ai video tutorial gratuiti i video tutorial gratuiti che ti spiegheranno quelli che sono gli elementi e quello che puoi fare con Kartra più qualche spiegazione un po' più evoluta inoltre se vuoi creare un corso con Kartra vai su stefanobenvenuti.com slash vendi in 5 giorni con Kartra dove al posto dello spazio metti il trattino meno e accederai al corso crea e vendi il tuo corso in 5 giorni io spero di esserti stato utile i miei contatti li conosci sono hello stefanobenvenuti.com la pagina di Kartra Italia dove siamo ora il gruppo di Kartra Italia dove puoi lasciare le tue domande io per questa settimana ti saluto e spero di esserti stato utile come stato fin ad ora se hai domande se vuoi contattarmi direttamente puoi farlo adesso oppure puoi farlo direttamente del gruppo per ricevere risposta poi direttamente il venerdì prossimo ok benissimo allora io ti ringrazio ancora una volta ti auguro una buona una buonissima giornata e a presto ciao da me e alla settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti